Oggi tratteremo della posizione di Martin Heidegger. Heidegger è stato un filosofo che ha avuto delle influenze importanti in psicoterapia, perché autori come Binswanger hanno provato a trasferire i principi della sua filosofia di tipo esistenzialistico, quindi della prima fase del suo pensiero alla psicoterapia per cercare di far luce sull'esperienza del paziente, su come vive la sua situazione individuale, quali sono le sue aspirazioni, qual è il suo progetto di esistenza. Vediamo che Heidegger nella prima parte della sua filosofia si è dedicato a che cosa prova il singolo individuo, quindi all'esperienza soggettiva, all'esperienza del singolo essere umano. e ha dedicato Essere e Tempo, nel 1927, a Husserl, in quanto suo autore ispiratore, perché ha cercato di seguire, infatti apposto al centro della sua filosofia, l'individuo, il singolo, proprio il singolo soggetto che vive nella sua esperienza concreta l'esperienza di esserci. Ecco, viene posto al centro quindi l'individuo, il soggetto con la sua esperienza di esistere, di essere presente, di essere nel mondo. Heidegger dà il nome di Dasein, ovvero esserci, essere nel mondo, a questa esperienza che è quasi il principio di questa filosofia esistenzialistica, per cui non possiamo dire nulla di chi siamo e della nostra esperienza nel mondo senza prima avere l'esperienza di esserci, di essere presenti in questo momento in una posizione di apertura verso il mondo. Questo concetto essere nel mondo racchiude il soggetto, quindi l'io sono, con il mondo, in quanto secondo Heidegger non si può effettuare una scissione tra questi due termini. Io non posso concepire me stesso senza un mondo nel quale vivo e viceversa non può esistere alcun mondo senza la mia presenza nell'esperienza di chiunque, perché se scendo questi due termini è un mondo astratto che può essere o il mondo naturale o un mondo di soggettività astratta in cui la persona non ha un ruolo concreto. Ripercorre Heidegger e rivive il concetto di trascendenza che aveva descritto Husserl, soprattutto nel termine del sentimento di trascendere, quindi dell'andare verso il mondo. Infatti Heidegger dà molta importanza all'etimologia dei termini della lingua, quindi esistere significa dal latino, proviene dal latino esistere, che significa letteralmente stare oltre, protendersi, quindi andare oltre una posizione primordiale di staticità. L'essere umano non si può concepire, secondo Heidegger, in una posizione statica, ma è sempre una tensione verso il mondo, verso qualcosa che non sono io, verso un altro da me. Quindi la trascendenza nell'opera essere tempo prevalentemente significa questo, il sentimento attraverso cui io come essere umano mi protendo verso il mondo, mi apro e in questo modo includo nella relazione il mondo intero. L'altro è tutto quello che fa parte del mio mondo, perché non esiste un mondo totalmente oggettivo che è strano da me, in quanto con la mia tendenza a trascendere a me stesso, sono naturalmente aperto all'esperienza dell'altro, attraverso l'esperienza della coscienza intesa nell'accezione di Husserl, perché la coscienza è il principio di tutto. Heidegger dà questa definizione di fenomenologia in questa opera e afferma che fenomenologia significa lasciare vedere da sé ciò che si manifesta, così come si manifesta da sé. Il termine fenomenologia non denota l'oggetto delle sue ricerche, la parola informa esclusivamente sul come viene mostrato e trattato ciò che costituisce l'oggetto di questa scienza. Quindi non è mai lo studio della cosa per come si presenta e per come si può analizzare, perché quello è lo studio della scienza naturale, ma è cosa rappresenta l'oggetto per me stesso, per il soggetto. E quindi è una relazione attiva tra un soggetto che si interroga e che vuole conoscere e l'oggetto che si rivela in una serie di significati che l'individuo sente di avere l'esigenza di conoscere meglio e l'approfondimento di questa conoscenza è la vita in sé. Vediamo che poi dopo essere tempo, soprattutto dal 1930 in poi, Heidegger abbandona un po' il tema dell'esistenzialismo. Sembrava essere intenzionato, dopo essere tempo, a proseguire questo filone cercando di sviluppare un'altra opera che avrebbe dovuto chiamarsi Tempo ed essere nel tentativo di trovare una conciliazione tra l'esigenza di soggettività e quindi di dare possibilità di espressione al singolo individuo e attraverso l'esperienza del tempo riuscire ad arrivare a una meta che può essere quella della trascendenza assoluta. Solo che si rende conto, Heidegger, che non è possibile né trovare un linguaggio per descrivere l'esperienza di una trascendenza assoluta, né probabilmente neanche poterla concepire intellettualmente. Quindi Heidegger si rende conto dei limiti della mente umana nel poter concepire sistematicamente un essere trascendente e quindi è costretto a rinunciare a questo suo proposito di poter costruire un'opera sistematica che a partire dalla mia esperienza individuale giunge all'essere e si sofferma invece su una descrizione di quello che potrebbe essere un individuo trascendente, quindi una descrizione oggettiva di un essere che assomiglia un po' a quello di Platone. Infatti ha scritto anche la dottrina platonica della verità, tematiche come l'essenza della verità, l'abbandono, ormai solo un Dio ci può salvare, perché più va avanti nella sua esperienza più diviene un po' pessimista, scettico nella possibilità che un individuo col proprio intelletto riesca a concepire e a vivere, a sperimentare un'esperienza della divinità e quindi prevago nella lunga i sentimenti dell'abbandono, della rinuncia alla conquista di conoscere Dio e alla speranza che sia la trascendenza, sia Dio manifestarsi in un certo modo a illuminare elementi che non sarebbero possibili all'intelletto umano. Quindi questo essere trascendente assume sempre più la caratteristica dell'inconscio, in quanto è tutto quello che l'individuo non può concepire intellettualmente. Quindi, mentre Freud, come sappiamo, concepisce l'inconscio in termini pulsionali, quindi tutto ciò che è un epifenomeno della biologia, della chimica, della fisica, invece Heidegger concepisce l'inconscio come prescendenza, come la modalità attraverso cui questo essere inconoscibile in qualche modo manda dei segnali, non ovviamente in termini logici, ma in termini allusivi, analogici, che forse il linguaggio della poesia e dell'arte può trasmettere meglio che un approccio intellettuale come quello della filosofia. quindi, vediamo di descrivere meglio questi termini che utilizza Heidegger che sono molto peculiari. Dasein significa esserci o essere nel mondo o esistenza situata nel mondo. Insiste Heidegger sul concetto che non può esistere un io avulso dall'esperienza dell'altro, dall'esperienza del mondo oggettuale, ma anche viceversa. Quindi si può tradurre in vari modi questo concetto di Dasein, anche come io sono, io ci sono, io esisto e Binswanger, che è un psicopatologo che si è ispirato a Heidegger, utilizza a questo proposito il termine presenza, in quanto presenza ci fa percepire un termine di una persona che sente di esserci, quindi che ha coscienza di sé e che è presente in questo momento attualmente, anche dal punto di vista temporale. E essendo presente, concependosi presente, ha un sentimento di appartenenza all'esistenza, che è molto importante anche nella psicopatologia di Binswanger. Quando un soggetto è presente a se stesso e ha questa coscienza di esserci ed è radicato nella sua esperienza di esistere, è un soggetto che psicologicamente sta bene. Quando manca questo senso di presenza radicato nel momento attuale, sopravviene la psicopatologia secondo varie forme, dalla più lieve alla più grave. Quindi Binswanger sostiene la parola presenza al vantaggio di implicare immediatamente il fatto che essa è la mia, la tua, la sua e questa è una connotazione del design fondamentale. Poi un altro termine importante che utilizza Heidegger è quello di progetto di mondo, perché Heidegger sostiene che l'essere umano è sia una presenza, ma non una presenza astratta che un io astrattamente scritto su un libro, è anche un incarna un progetto, esiste in quanto incarna un progetto temporale che corrisponde all'asso di tempo in cui esiste nel mondo, quindi dalla nascita alla morte. Non avrebbe senso, non avrebbe alcun significato all'esistenza dell'uomo nel mondo se non fosse accompagnata da un progetto e una rappresentazione di significati che l'individuo vuole realizzare. Se mancano i significati, non abbiamo un essere umano, abbiamo un organismo biologico che subisce gli effetti meccanici del mondo naturale, ma non vive una vita, è una cosa tra le altre cose. Quindi questo progetto è come la rappresentazione degli intenti, dell'intenzione dell'individuo, di una coscienza che non è statica, ma che si apre dinamicamente verso un mondo ancora da attualizzare, da rendere concreto. Poi un altro termine fondamentale è quello di essere gettato. Vediamo che ci sono molti richiami da parte di Heidegger all'io trascendentale di Husserl. Infatti, secondo Husserl, ma anche secondo Heidegger, l'essere umano ha un potere molto importante, cioè quello di far comparire alla coscienza, cioè allo scenario che si prospetta davanti a lui, gli oggetti del mondo. Non nel senso che li crea, come affermava Fichte o Hegel, come gli idealisti, ma nel senso che dà a loro un significato, per cui, in un certo senso, è come se li creasse. L'oggetto esiste di per sé, ma sarebbe inerte, sarebbe privo di senso se l'essere umano non esistesse, intanto non conferisse significati agli oggetti con cui interagisce. E secondo Heidegger, come avveniva nella teoria di Husserl, apparire ed essere nella coscienza, nell'individuo, sono la stessa cosa. Quindi, nel momento in cui un oggetto appare nella mia coscienza, nella mia esperienza di vita, questo soggetto esiste, altrimenti non ha nessun senso parlare di esistenza o di non esistenza. Questo richiama molto Husserl, in parte, anche l'idealismo di Fichte e di Hegel, anche se non c'è una creazione dell'io, ma un'esperienza di dare vita agli oggetti. Quello che poi invece Heidegger afferma in modo peculiare è che tuttavia c'è questo sentimento di essere gettato, che fa sì che l'uomo prenda coscienza anche dei suoi limiti, perché nell'esperienza di vita, inevitabilmente, l'essere umano si rende conto di stare vivendo nel mondo, di esserci, ma non di essere l'autore di questo progetto di mondo. Infatti si rende conto che non è lui l'autore del progetto, ma che lui stesso è progettato da chi è impossibile sapere, progettato da una trascendenza ignota che neanche si manifesta, non fa neanche sapere nulla di sé, se non che l'essere umano si sente che si trova nel mondo, ma che non è l'autore del suo progetto di vita, e neanche del tutto il protagonista. È come un personaggio che è stato inserito a sua insaputa in un mondo e cerca di arrangiarsi, ma si sente in una condizione non di attività, di essere l'autore effettivo delle sue azioni, ma di essere sempre un po' condizionato in tutto quello che riguarda la sua vita. Quindi spesso si trova in certe situazioni che non ha voluto, che non ha cercato, si trova a interagire, prova questo sentimento di passività e di confusione, di far fatica ad attribuire un significato profondo alla sua esistenza. Può provare a dare dei significati singoli e settoriali a alcune esperienze, ma manca quel significato globale che possa dare un senso autentico all'esistenza. E quindi cosa succede? Che questo individuo è inevitabile che provi uno stato di angoscia, un'angoscia esistenziale, non solo l'ansia, la paura o la percezione di un pericolo da cui cercare di scappare. È proprio un'angoscia che anche se l'individuo non ha una sensazione di essere in una situazione rischiosa, sta male e anzi non sa neanche dove scappare perché non c'è un pericolo imminente, c'è una sensazione indecifrabile ma molto fonte di sofferenza che è questa angoscia. Angoscia esistenziale che Heidegger avvicina al concetto di annichilimento, di nulla, di morte. Infatti afferma Heidegger di fronte all'angoscia l'uomo si sente in presenza di questo niente. È un po' una contraddizione perché se c'è un niente non si può essere in presenza di un niente ma proprio quella sensazione paradossale come già aveva affermato Kierkegaard che l'individuo ha quando è uno stato di angoscia. Sa di essere presente, sa di essere di fronte a un mondo ma percepisce il nulla. Heidegger poi te lo chiama abisso quindi un nulla che anche ci fa cadere ci risucchia in un vortice misterioso e quindi tutto questo provoca questo stato di angoscia in assenza anche di un pericolo materiale perché abbiamo di fronte non una cosa ma il nulla. Però Heidegger si focalizza sul concetto di morte in modo anche originale perché la filosofia classica non dava grande importanza al concetto di morte dal punto di vista dell'individuo perché era focalizzata sulla presenza di questo essere per cui nell'essere tutto è e non essere non è per cui la morte è un evento particolare accidentale del singolo individuo ma che non mette in difficoltà assolutamente l'essere non fa cambiare nulla sulla sorta di un progetto universale così come nel mondo naturale la morte riguarda solo apparentemente un organismo che prima funzionava adesso non funziona più ma la vita continua nel mondo universale è una vita concepita come un grande meccanismo che continua incessantemente nonostante poi i singoli oggetti possano apparentemente scomparire ma in realtà nulla si crea nulla si distrugge invece secondo Heidegger la morte merita di essere approfondita di essere studiata in prima persona perché è secondo Heidegger forse l'unica possibilità che permette all'uomo di dare un senso all'esistenza paradossalmente questa morte come nulla dà un senso alla vita infatti nota Heidegger che la morte è l'unico elemento che è sicuro nella vita di ognuno e che quando insorge annulla fa svanire improvvisamente tutto tutti gli oggetti del mondo tutti gli oggetti del mondo sono particolari contingenti compaiono poi spariscono quindi non possono essere i veri oggetti degni di essere affrontati da una filosofia profonda la morte è l'unico oggetto che quando compare rimane persiste fa svanire tutti gli altri oggetti quindi la morte è l'unica reale possibilità che si verifica tra le mille possibilità dell'esistenza dell'individuo e la morte essendo presente è l'unica vera realtà che non si può scegliere perché siamo sicuri al 100% che avverrà quindi questa consapevolezza pone l'individuo di fronte a una scelta inevitabile perché non si può scegliere la morte ma siamo obbligati tra virgolette a scegliere il nostro atteggiamento di fronte alla morte sia intesa come la morte vera e propria sia intesa come ogni momento in cui ci sentiamo fallire ci sentiamo di trovarci in una situazione insoddisfacente di fallimento quando prendiamo coscienza di non essere quello che vorremmo di essere inadeguati ci sono tante esperienze di morte prima della morte vera e propria di fronte ad ogni esperienza negativa spiacevole che ci comunica fallimento abbiamo una scelta obbligata tra virgolette o cercare di evitare questa sensazione spiacevole questa sensazione di fallimento di tristezza che anticipa quella che sarà la morte vera e propria oppure accettare incondizionatamente questa esperienza e vedere che cosa succede se rimaniamo presenti come esserci di fronte a qualunque esperienza fallimentare che ci costa sofferenza possiamo rimanere in questo stato e vedere cosa succede davanti a noi quindi se evitiamo e non abbiamo nessun altro strumento se non o fuggire oppure semplicemente non pensarci far finta di niente far finta che non esista la sofferenza andare avanti rimuovendo la parte spiacevole della nostra vita se facciamo questa scelta avremo di fronte a quella che Heidegger chiama esistenza inautentica che è la vita che ci tocca svolgere spesso che forse nel 90% della vita di ognuno di noi è caratteristica della nostra esperienza c'è una vita tutti i giorni in cui abbiamo il nostro ruolo il nostro nome il nostro cognome svolgiamo un lavoro dobbiamo andare a espletare alcune funzioni che sono predefinite e abbiamo la sensazione di passività di essere diventati dei ingranaggi di un sistema di effettuare una vita meccanica fino a provare questo stato di depersonalizzazione questo stato che ci fa pensare cosa facciamo a fare le cose che senso ha la vita perché tutti i giorni devo iniziare la giornata in questo modo svolgere meccanicamente la vita quotidiana è una vita che corrisponde a un'esistenza anonima perché quello che facciamo noi potrebbero farle mille persone in personale già tutto predefinito in cui c'è già un programma di vita che è previsto che noi facciamo che dobbiamo semplicemente portare avanti e che noi non abbiamo scelto che noi non abbiamo l'entusiasmo di iniziare e progressivamente l'individuo in modo subito o quasi senza accorgersene si ritrova in uno stato spiacevole di sentirsi una cosa tra le altre cose quindi come un ingranaggio di un sistema perdendo spontaneità perdendo l'esperienza di vivere in modo autentico e di esserci in modo reale e quindi Heidegger chiama questa esperienza di cadere a livello delle cose per cui anziché andare avanti si va indietro e si ritorna a una vita o vegetale o addirittura a una vita di essere non vivente chiama tutto questo deiezione quindi come se l'uomo fosse anziché andare avanti fosse il retrocesso a automa o al limite a una cosa però quello che denota quello che differenzia l'essere umano dalla cosa è la perdita di spontaneità che un oggetto ha a differenza dell'essere umano la perdita di spontaneità perdita di libertà di intenzionalità di espressività nei sentimenti in modo immediato quindi è quello che accade dall'uomo che ha così timore della morte e della sofferenza che oppone come tutta una serie di difese che è simile ai cosiddetti meccanismi di difesa di Freud solo che in questo caso non provengono da delle forze pulsionali e biologiche ma provengono da una scelta che l'individuo pone a priori al di là della sua biologia per cui di fronte alla paura della morte della sofferenza del dolore l'individuo è come se volesse fuggire non a livello concreto ma a livello psichico e trovasse il rifugio nel cosiddetto oblio della consapevolezza e quindi è una specie di rimozione per evitare il dolore pur con le differenze dalla visione meccanicistica di Freud l'esistenza autentica invece al contrario è l'esistenza di chi dice sì a questa esperienza della vita anche quando è molto spiacevole quando avvicina l'individuo al proprio anichilimento quindi Heidegger è stato molto influenzato anche da Nietzsche dal concetto di amor fatti quindi di accettare in modo incondizionato la vita ma non solo la vita quando ci crea momenti piacevoli momenti di realizzazione in cui soddisfiamo le nostre ambizioni ma anche soprattutto quando ci porta inevitabilmente momenti tragici come la morte di una persona cara una delusione per cui andiamo conto che il mondo non è quello che ci aspettavamo che fosse l'angoscia la paura di perdere quello che già abbiamo fino alla sofferenza e i momenti negativi che sono inevitabili nella vita di ognuno di noi se però l'individuo ha il coraggio e la tenacia di accettare tutto questo versante molto doloroso e carico di sofferenza avrà l'occasione di entrare nell'esistenza autentica che non è come la precedente l'esistenza automatica ma un'esistenza attiva personale in cui l'individuo ha l'occasione di creare la propria personalità quindi un'individuo che ha l'occasione di essere libero di creare la propria personalità solo se paradossalmente accetta di non essere libero di libero autore della propria esistenza perché l'individuo accetta il fatto che non ha costruito lui questo progetto di vita e che il progetto è stato costruito da un altro essere ignoto e che ha il massimo del potere proprio però paradossalmente se l'individuo accetta questa condizione ovvero incarna la posizione di essere per la morte allora questo individuo che è capace di avere coraggio di avere la tolleranza della sofferenza del dolore che non reagisce fuggendo ma risponde consapevolmente alle proprie azioni avrà l'occasione di vivere pienamente con dignità la sua esistenza e quindi di essere anche in sintonia con il suo destino vedremo qualche cosa Heidegger intende come destino una frase importante di Heidegger se accolgo la morte nella mia vita quindi non solo la morte fisica ma tutto ciò che mi crea un senso di morte di delusione di fallimento la riconosco e l'affronto a viso aperto mi libererò dell'angoscia della morte e della meschinità della vita solo allora sarò libero di diventare me stesso quindi Heidegger insiste molto sul concetto di libertà libertà dell'angoscia libertà anche dal sentimento di stare morendo da tutto ciò che è meschino che è contingente e l'aspirazione è proprio quello di diventare il vero me stesso e abbiamo visto quindi che sono fondamentali la presenza un atteggiamento attivo di coraggio nell'affrontare le inevitabili difficoltà della vita e aggiungiamo un altro modo attraverso cui l'uomo può entrare nell'esistenza autentica che è il concetto di cura quindi Heidegger che dà molta importanza all'etimologia cerca di risalire al concetto originario latino di cura che secondo il significato letterale ha varie accezioni una definizione una traduzione letterale è quella di responsabilità che letteralmente si intende l'abilità nel dare una risposta quindi dovrebbe essere una capacità di reagire a uno stimolo risposta vuol dire che la modalità di agire è consapevole quindi avviene un'azione da parte di una coscienza più profonda di quella di una reattività che ci permette di dare un senso e dare anche un'intenzione consapevole a quello che noi facciamo quindi poi c'è l'inquietudine cura si intende anche inquietudine nel preoccuparsi per le sorti di qualcuno quindi uscire da se stessi per mettersi nei panni degli altri trascendere in questo senso avere a cuore qualcuno provare amore penna amorosa quindi è un sentimento attraverso cui usciamo dal nostro egoismo dalla nostra vita egocentrica e proviamo questo sentimento di apertura verso l'altro associato spesso anche al sentimento negativo di temere che questa persona stia male o che noi possiamo perdere quella persona quindi dobbiamo avere la forza e il coraggio di superare anche la percezione spiacevole di questo sentimento e l'individuo che riesce riesca a percepire e a portare coltivare questo sentimento di cura sarà in grado di vivere in modo autentico prendendosi cura di sé delle cose avendo cura degli altri intendendo l'altro come parte di me quindi questa cura secondo Heidegger è proprio la struttura dell'essere dell'uomo quindi è come se dentro all'essere umano ci fosse già questo sentimento questa capacità di andare oltre il proprio egoismo prendersi cura degli altri quindi aprirsi alle esperienze degli altri affacciarsi anche al dolore e alla sofferenza altrui e questo è il più forte antidoto contro quello stato di depersonalizzazione che avevamo visto a proposito dell'esistenza inautentica in cui come meccanismi di un sistema perdiamo la capacità anche di provare i sentimenti dell'altro siamo più insensibili siamo freddi e quindi siamo un po' polarizzati sulla nostra esperienza egocentrica e perdiamo anche il contatto vivo dei sentimenti altrui quindi la cura è quello che ci può fare uscire da questo meccanismo da questo circolo vizioso della deiezione della riduzione a livello delle cose c'è da dire che secondo Heidegger la cura va concepita con la lettera maiuscola quindi la cura possiamo intenderla in vari modi possiamo intenderla come un sentimento dell'io della nostra personalità Heidegger sembra intenderla di più però come un'entità trascendente con la C maiuscola come se ci sia un'emanazione dell'essere che è il vero autore del progetto della nostra vita del mondo e che si riveli all'individuo quindi l'individuo abbia l'occasione di aderire a questo questo messaggio e di rispondere positivamente a questo invito della trascendenza come se la trascendenza emanasse questa cura che è un'entità che l'individuo ha l'occasione di cogliere se è consapevole se è attento a rispondere a questa chiamata quindi se il destino è favorevole sembra che questo individuo possa usufruire di questo messaggio trascendente e dare un senso alla sua esistenza a proposito del concetto di essere gettato e il concetto di libertà che sembra una contraddizione Binswanger sempre rileggendo Heidegger afferma nonostante la presenza che è il design che è questo essere nel mondo non abbia posto lei stessa il proprio fondamento quindi non abbia la possibilità di essere libera a priori le rimane però la libertà nei confronti di esso quindi come se l'individuo sia consapevole di non essere autore del proprio progetto di vita che non abbia scelto di vivere che quindi abbia una forte limitazione della possibilità di agire spontaneamente ma che un'ultima libertà ne possa rimanere infatti non possiamo decidere che cosa accade perché abbiamo un destino che nel linguaggio della scienza naturale corrisponde al nostro patrimonio genetico nel linguaggio della della trascendenza assume la si incarna nella figura di Dio che stabilisce il nostro destino rimane il fatto che l'essere umano non sembra poter decidere davvero quello che accade quello che succede davanti a lui però quello che rimane l'individuo è avere la responsabilità di come agire nel mondo in base al suo che accade quello che come io agisco a seconda di quello che accade secondo questi filosofi è mia responsabilità è vero quello che si può è quello che è impossibile eliminare è il nostro modo di reagire o di rispondere meglio a quello che accade perché tutti noi siamo obbligati ad avere un atteggiamento rispetto a tutto quello che accade possiamo reagire o fuggendo o invece affrontando il problema oppure possiamo anche per finta di non avere nessuna reazione rimanere inerti però anche questo è un atteggiamento se arriva in certi momenti della vita in cui è impossibile non prendere una posizione perché anche se rimaniamo fermi abbiamo un atteggiamento che è quello di non voler decidere nulla e quindi di scegliere un'esistenza inautentica un'esistenza passiva un'esistenza in cui ci ridurremo a una cosa tra le altre cose quindi in questo senso di fronte a certe situazioni estreme nella vita è impossibile non avere una possibilità di scelta è impossibile non avere una libertà o una responsabilità e su questo si basa l'esistenza dell'uomo e quindi non è un semplice organismo meccanico ma di fronte a certi avvenimenti che toccano le sue torni in modo profondo l'essere umano ha questa facoltà di avere un atteggiamento di prendere una posizione rispetto a un problema e questo è l'essere umano secondo Heidegger secondo la maggior parte degli esistenzialisti l'essere umano è tale in quanto è dotato di questa scelta proprio nelle situazioni più drammatiche ed estreme della sua nella sua vita quindi andiamo avanti ecco riguardo al destino e il concetto di libertà sembrano due termini antitetici impossibili da coniugare perché ogni essere umano sappiamo già i tempi dell'antica Grecia poi soprattutto è stato approfondito nella filosofia occidentale sia naturalistica che basata sulla trascendenza però tutti gli autori i filosofi principali del mondo occidentale concordano sul fatto che l'essere umano ha a che fare con un destino che in gran parte è modificabile è inoppugnabile per cui non possiamo modificare quello che capiterà nella nostra vita e quello che è anche il nostro patrimonio con cui iniziamo la vita stessa intesa come eredità sia costituzionale nel nostro igiene nel nostro corpo sia la situazione familiare ambientale in cui viviamo questi fattori non possiamo modificarli dall'altra parte però è come se il destino partendo da questi fattori immodificabili riservasse all'uomo secondo Binswanger un compito cioè la maniera in cui ci si comporta verso questa eredità quindi sia Heidegger che Binswanger evidenziano molto questo concetto ci sono dei fattori che non possiamo scegliere non possiamo modificare che sono quelli della trascendenza che in qualche modo ci ha creato del progetto che è stato costruito a nostra insaputa e sulla modalità con cui partiamo questo non possiamo modificarlo così come anche la maggior parte di eventi che ci capitano nella vita che sono prodotti dal destino quindi inteso come Fatuan ha sempre queste caratteristiche rigide di un fattore che non possiamo modificare però come noi ci comportiamo rispetto alle avversità della vita questo è il nostro impegno la nostra responsabilità è la nostra scelta e da questa scelta nasce anche la nostra vita psichica perché la libertà di scelta è quella che è una caratteristica della nostra psiche che può dare luogo anche a sentimenti di aspirazione a realizzarci o sentimenti di insicurezza inadeguatezza di sofferenza quello che è la nostra vita psichica viva dipende dal nostro atteggiamento con la libertà e la possibilità di scelta altrimenti siamo un organismo biologico un meccanismo che prima o poi si incepperà fino a scomparire tutto questo però non ha a che fare con la psiche e con la psicoterapia con tutto ciò che riguarda lo studio dei sentimenti quindi dalla filosofia di Heidegger come abbiamo capito nasce poi la psicopatologia di Binswanger che attraverso i concetti fondamentali di essere tempo quindi questo testo esistenzialistico di Heidegger Binswanger fonda la design analysis diciamo che Binswanger ha scoperto Heidegger non immediatamente in una seconda parte della sua vita ha iniziato con la laurea in medicina con lo studio l'approfondimento specialistico all'ospedale di Zurigo che era diretta da Eugen Bloiler ha conosciuto anche Jung e ha sviluppato un'amicizia anche con Freud con cui è rimasto in rapporti cordiali pur avendo un disaccordo riguardo poi ai fondamenti della visione del mondo della sistematizzazione della teoria psichica quanto Freud aveva un approccio pulsionale come vediamo Binswanger si basa invece sull'ontologia la trascendenza lo studio dell'essere preferisce accanto al nome di design analysis utilizzare Binswanger il termine di antropologia fenomenologica non vuole essere una filosofia astratta né uno studio unicamente incentrato su un essere di più di interesse filosofico ma un'antropologia fenomenologica e lo definisce anche come una scienza di esperienza empirica quindi anche Binswanger si definisce empirista nel senso che vuole applicare in concreto questa teoria esistenzialistica di Heidegger per comprendere meglio il comportamento umano quindi non è uno studio biologico naturale ma un'antropologia non riduzionistica ma basata sul metodo fenomenologico esistenziale quindi ponendo al centro l'esperienza concreta del soggetto il suo sentimento di esterci la coscienza l'intenzionalità la libertà e la responsabilità tutti i concetti che non possono essere esprimibili con il linguaggio della scienza naturale quindi vediamo i temi fondamentali dell'esistenzialismo che sono adatti anche alla costruzione di una scuola psicoterapeutica che ponga al centro queste tematiche la libertà di scelta la responsabilità la vita autentica il concetto di affrontare la sofferenza il dolore lo sforzo la fatica insistono molto questi autori su queste esperienze negative che però hanno l'occasione di fare luce in modo più profondo dell'esperienza piacevole sul significato della vita umana c'è da dire che se poi parliamo di psicoterapia dobbiamo per forza porre al centro questi stati d'animo il conflitto il dubbio la scelta l'acquisizione di responsabilità è che la scienza naturale non può fornirci degli strumenti in questo senso perché se concepiamo un mondo meccanico che viene regolato dalle leggi di causa e di effetto non c'è un ruolo che viene dato viene conferito all'io al soggetto non ha senso parlare di libertà da che cosa è libero un soggetto meccanico a un oggetto e quindi è una cosa tra le cose e quindi non ha neanche responsabilità di quello che fa delle sue azioni essendo un meccanismo essendo un ingranaggio di un meccanismo l'ingranaggio non ha alcuna responsabilità di quello che fa di cosa dice e non ha senso neanche che si ponga dei dubbi quindi vediamo che via Heidegger che Winswanger sentono l'esigenza di dare una risposta a queste problematiche cioè dell'esistenza dell'uomo con i suoi dubbi con le sue aspirazioni di libertà e di avere una vita responsabile che è la scienza naturale per costituzione non può non può fornire non può fornire degli strumenti adatti viceversa parlando di trascendenza ci sono questi problemi sul sul significato di attribuire alla trascendenza perché in alcuni punti di essere tempo sembra che ci sia il sentimento di trascendere nel senso di andare oltre la propria proprio egocentrismo per aprirsi all'altro nella filosofia di Heidegger prevale lentamente invece un approccio ontologico per cui la trascendenza esiste di per sé l'individuo è un'emanazione di questa trascendenza quindi questi concetti di destino di essere gettato e di di esistenza precostituita sembrano preponderanti al punto che anche come vedremo magari la prossima volta nell'esperienza di Binsvanger a volte è capitato a quest'autore di affermare sostanzialmente questo è un caso così complesso il paziente sta così male che la trascendenza sembra essere sfavorevole quindi non abbiamo più speranza di fare stare bene una persona quindi abbandoniamo anche la possibilità di costruire ancora qualcosa con la persona stessa quindi quando certi sentimenti vengono ontologizzati vengono attribuiti a un altro ente si è sempre a rischio di perdere un po' l'autenticità anche che è lo spirito vero della psicoterapia quindi c'è questo problema soprattutto di queste filosofie e tecniche di psicoterapia relativo a una trascendenza che sembra avere molto spesso il predominio sull'esperienza sia del paziente che del curante quindi noi non possiamo altro che riconfermare quello che abbiamo già sostenuto in tutte queste precedenti conversazioni nel senso che è indispensabile affrontare i problemi che nascono da queste contraddizioni in cui vive l'esperienza umana il suo contrasto tra il proprio essere e il proprio non essere il rapporto con l'essere che è l'essere onnicompressivo e che getta un'ombra sulla possibilità dell'essere dell'uomo soprattutto come personalità e quindi il problema sappiamo dell'individuo il problema quindi dovrebbe essere riguardare il problema del pensiero speculativo dovrebbe essere quello di garantire all'uomo la sua autonomia la sua responsabilità l'autonomia della sua personalità e l'autenticità della sua personalità noi vediamo che tutti questi temi vengono chiamati in causa ogni qualvolta si prende in considerazione il problema dell'individuo singolo nella sua assoluta problematicità rispetto a qualsiasi rapporto con l'alterità e questo è in definitiva il problema di fronte al quale ci troviamo sia che vogliamo conoscere il problema del rapporto dell'uomo con il mondo con la trascendenza con se stesso in particolare nel caso che noi vogliamo conoscere le problematiche che portano l'uomo ad essere in conflitto con se stesso quindi dobbiamo riconoscere che nell'uomo il principio della conflittualità è costitutivo del suo stesso essere e questo è un principio fondamentale che noi possiamo rendere concreto soltanto se ci rendiamo conto che questa problematica del rapporto dell'essere e del non essere dell'io dell'altro dell'io del non io è una problematica originaria che quindi non possiamo partire da altri fattori positivi che esulino da questa situazione che è una situazione di base e che viene evocata anche da questo autore quando si parla dell'uomo come lasani come esserci essere nel mondo è un uomo come essere nel mondo e come essere di fronte al mondo e nel mondo ma nello stesso tempo è in antitesi col mondo è lotta per l'integrazione di sé col mondo stesso e quindi non è semplicemente un esserci passivo è un esserci che lotta che confligge che nello stesso tempo si distingue si contrappone e nello stesso tempo aspira ad integrarsi col mondo quindi c'è un rapporto di opposizione e di integrazione al quale corrispondono dei sentimenti fondamentali che sono sappiamo l'amore e l'odio in definitiva l'uomo l'io il singolo che aspira ad essere tutto ad essere l'onnicomprensivo senza alcuna opposizione senza alcuna contraddizione questo essere è in contrasto con se stesso e per essere se stesso deve tradursi su un piano di esteriorità quindi deve contrapporsi ad un'esteriorità che originariamente è sua nemica e nello stesso tempo è sua amica convivere con questa contraddizione che vorrebbe eliminare per affermare la sua assoluta positività anche se l'uomo desidera l'io soggetto desidera emendarsi da ogni forma di negatività è semplice determinarsi in qualche cosa in qualche modo è semplice obiettivarsi e tradursi in qualcosa di negativo di mancanza perché ogni determinazione est negatio ogni determinazione positiva affermarsi in un certo modo implica la negazione tutto ciò che non coincide con questa determinazione io mi devo determinare per essere qualcosa per essere nel mondo per essere qualcosa nel mondo ma nello stesso tempo mi determino io mi limito e io non posso accettare questo limite perché io voglio essere quella cosa che sono e nella quale mi riconoscono e nella quale mi riconosco e voglio essere anche tutto il resto e quindi questa contraddizione non è eliminabile ma non è neanche interpretabile se noi rimaniamo sul piano della logica dell'identità perché questa contraposizione ha un senso un senso logico se noi la concepiamo in un vivente e il vivente del quale possiamo parlare direttamente con cognizione di causa sono io quindi è la logica dell'io non è la logica dell'oggetto la logica dell'oggetto è l'oggetto stesso che non ha bisogno di logica neanche perché è quello che è l'assoluto è la ragione fatta logica la ragione logica del suo essere è quello che è ed è la sfera di Parmenide è l'oggetto che coincide con la mondanità e coincide con la divinità essere e pensiero sono la stessa cosa ma questa non è la logica dell'io l'io che appunto è qualcuno che sono io che sa di esserci e esserci cosa significa essere in una collocazione nella quale io devo determinarmi se sono nello spazio o nel tempo o in qualsiasi altra sotto qualsiasi altra determinazione sono un determinato sono un essere determinato senza determinare non posso esserci e non posso essere nel mondo non posso essere da nessuna parte per essere devo esserci devo essere nel mondo devo essere determinato ma nello stesso tempo non posso accettare nessuna determinazione perché ogni determinazione è una limitazione che io nego ogni limite è un non essere del mio essere oltre il quale io aspiro a essere altro essere il tutto essere la totalità essere l'unico obversivo quindi non è che io possa limitarmi ad essere qualcosa infinito perché infinito non mi è sufficiente nella mia interiorità io aspiro ad essere sempre più sempre qualcos'altro e al limite sappiamo che è questo cos'altro finché resta sul piano della mondanità infinito non mi basta perché io aspiro all'infinito io aspiro alla divinità e qualsiasi cosa io possa determinare come fatto determinato non mi soddisfa il problema il problema per l'io non è un problema puramente logico è un problema che chiama in causa il sentimento cioè chiama in causa il sentimento di io stesso l'io ha un senso se aspira all'infinito se sostenuto dal sentimento dell'io perché altrimenti resta una strazione resta una parola senza senso io diventa un'iscrizione tra la quale c'è una cosa che si chiama io che è una cosa insieme a tutte le altre di questo mondo ma io non sono una cosa tra le altre cose io non sono quella iscrizione che posso trovare trascritta in qualsiasi parte del mondo esterno non è che io possa essere né un'iscrizione né un DNA né una formula matematica che corrisponda al mio DNA e che qualifica la mia individualità questa individualità che è trasferta nel mio DNA non sono io è una denotazione che viene dalla natura è una indicazione di un esemplare di una specie che non è frutto della mia creatività della mia autenticità della mia spontaneità e quindi se parliamo di queste cose dobbiamo tener conto che non possiamo stabilire un paragone tra questi problemi che sono pertinenti al mio io la mia interiorità la mia soggettività e non possiamo trasporre queste problematiche su un piano naturale perché sul piano naturale non c'è nessun conflitto se trasferisco questi problemi sul piano interiore allora tutto diventa un problema tutto diventa una contraddizione tutto diventa una tensione perché io non posso assistere passivamente ad una manipolazione della mia persona ad una imposizione di un destino o di una direttiva che neghi il mio io perché negare il mio io significa negare il mio essere attraverso la negazione del mio io potrò assumermi la responsabilità di negare me stesso e di dare piena adesione al programma dell'essere in quanto essere ma in questo caso io annullo me stesso quindi la mia spontaneità mi impone di essere me stesso e quindi di richiamare il senso di me il senso del mio essere come base di qualsiasi attività di esperienza sia sul piano della conoscenza perché la conoscenza in questo caso non è più un fatto puramente passivo ma è un fatto organizzativo che presuppone la mia attività mentale e quindi il mio essere nel mondo non è un semplice essere nel mondo esserci io ci sono e sono determinato in infiniti modi dalla mia mondanità perché io sono determinato essere determinato significa essere limitato e quindi limitato essere negato non posso accettare questa negazione cioè se accettasse questa negazione mi ha detto che è appunto in un automatismo per la quale io non sarei più io sarei semplicemente l'esemplare di una specie un'automatismo che è stato creato dalla natura dalle sue regole dalle sue leggi naturali quindi da questo punto di vista noi non possiamo evitare di stabilire una contrapposizione assoluta assoluta nel senso logico nel senso che la natura segue la logica dell'identità ma noi non possiamo applicare questa logica quando passiamo alla logica dell'io del mio io assolutamente individuale quindi che non si sottomette a nessuna forma né di condizionamento naturale né di condizionamento trascendente quindi se noi consideriamo l'uomo dal punto di vista naturale il suo design il suo esserci è un essere meccanico perché è un essere condizionato essere qui e ora con questi condizionamenti temporali spaziali e generalmente meccanici che regolano il mondo della natura la natura ha le sue leggi e l'uomo quanto lo riguarda cioè la sua struttura corporea i suoi automatismi le sue pulsioni i suoi istinti l'uomo è un automatismo che è programmato da questo ordine naturale se ci si pone la domanda ma e chi l'ha fatta questa natura si potranno rispondere potrà dire la natura sia stata da sé ecco si potrà dire la natura è stata fatta da un programmatore che è la divinità che è una divinità perfetta e quindi facendo i suoi calcoli non ha sbagliato neanche il passaggio ha fatto tutto nella maniera più perfetta possibile ha creato il migliore dei mondi possibili a perfezione assoluta è quello che è ci sono varie possibilità di scelta ma in realtà vediamo che le scelte effettive non sono altro che due o si nega all'uomo qualsiasi autenticità si dice l'uomo è una macchina in tutti i sensi soltanto che noi possiamo vedere questi automatismi e questi congegni automatici soltanto ai livelli più bassi della sua costituzione non possiamo capire i meccanismi del suo ragionamento perché quelli sfuggono dalla nostra comprensione tantomeno non possiamo capire le intenzioni della natura questo non lo possiamo capire però è sempre un meccanismo è un automatismo allora il suo essere è questo e il tuo design è di essere un essere meccanico è inutile che vada a cercare altre cose libertà e spontaneità e originalità tu sei un fatto naturale e basta e solo così puoi impiegare bene il tuo tempo perché impieghi per cose che possono dare dei risultati utili per il tuo inserimento nel mondo per la tua possibilità di maneggiare le cose di poterle rendere utili per i tuoi scopi i tuoi fini i tuoi intendimenti se vai a cercare altre cose vai a cercare la programmazione ogni comprensione dell'universo della trascendenza eccetera che cosa ottiene un bel niente perché tutte queste cose non sono misurabili non sono calcolabili quindi limita il tuo interesse alle cose maneggevoli alle cose utili alle cose che si possono facilmente misurare pesare contabilizzare quindi grande importanza anche il pensiero economico il pensiero economico contabilizza e misura e quindi tutte queste cose sono utili l'economicismo ha un'importanza notevole essenziale questo modo di interpretare il mondo e la natura umana tutto il resto tutto il resto potrebbe essere un gioco più o meno divertente per certi sfacendati che non hanno altro da fare e si dilettrano a pensare l'uomo come una creatura di Dio Dio che ha creato il mondo e ha creato il mondo per l'uomo per renderlo felice e contento e per renderlo poi beato alla fine della sua esistenza in terreno ma queste sono cose che possono divertire determinate persone ma non sono cose possono trovare spazio in un pensiero realistico il pensiero realistico è questo che noi siamo limitati questa limitazione dobbiamo accettarla per quello che è senza andare a scomodare la cosiddetta trascendenza perché nel migliore dei casi che cosa è questa trascendenza è qualcosa che abbiamo già definito inconoscibile è inomeno è la sostanza reale tutte queste cose sostanza reale inomeno eccetera che appartengono alla trascendenza e per definizione non sono accessibili al nostro intelletto quindi non servono a niente sono cose ignote sono l'ignoto l'inconoscibile sono fattori ai quali noi non possiamo interessarci concretamente perché non li possiamo utilizzare in nessun modo non li possiamo misurare non li possiamo manipolare in funzione di quelle che sono le categorie del nostro intelletto quindi sono cose inconoscibili il problema quindi della trascendenza è un problema che però viene obiettato esiste in ogni uomo non è vero che gli uomini si infiscano dalla trascendenza possono far finta ignorarla possono far finta di non sapere nulla ma in realtà sanno che è l'obiettivo ultimo del loro modo di essere di vivere perché l'ideale dell'uomo è quello di non avere limiti nella sua conquista del mondo nella sua conquista dell'onipotenza e quindi dell'aspirazione ad aggiungere questa onipotenza onicompensiva sia sul piano del piacere sia sul piano della conoscenza sia sul piano della manipolazione dell'universo della padronanza dei fenomeni universali l'uomo vuole maneggiare l'universo come vuole sentirsi padrone degli oggetti che tiene in casa sua vuole incamerare tutte le leggi dell'universo e farsene padrone poterle utilizzare per le proprie finalità non è vero che non esistono questi sentimenti questi sentimenti esistono in ogni uomo e nell'uomo esiste la frustrazione tra il senso del proprio limite e l'aspirazione a quello che egli vorrebbe essere e che sente di non essere e quindi esiste appunto questa angoscia che è l'angoscia del limite e l'angoscia del sapere che questo limite si pone poi concretamente con la fine dell'esistenza quindi tutto questo non è comprensibile in termini di logica dell'identità perché se l'uomo è caratterizzato dalla aspirazione a non in potenza dovrebbe avere effettivamente questa possibilità di accedere a non in potenza ma questo è impossibile l'uomo aspira a qualcosa che non è possibile in rapporto alle limitate possibilità del suo essere del suo modo di essere ma egli come essere conosce questo essere questo essere che è attualmente e che si può essere considerato un essere che è comparso a un certo momento della storia del mondo ma al mio essere interessa poco la storia del mondo interessa la mia storia la storicità alla quale tengo è la mia il mondo e il mio essere la nascita del mondo e la nascita del mio essere coincidono il mio essere e il mio essere è un esserci nel senso che è qui ed ora ed è limitato e condizionato da questa sorta di sistema che non coincide col mio pensiero con la mia volontà si pone contro è l'oggetto è l'oggetto che io devo in qualche modo limitare per affermare me stesso e devo trovare il sistema il metodo quindi una forma di pensiero speciale scientifica per poter rendermi padrone dell'oggetto il che è un'aspirazione che vediamo è molto limitata è molto limitata è limitata alle cose alle cose fisiche chimiche perché quando devo conoscere l'altro conoscere l'altro per quello che è devo seguire non una logica ordinaria che è la logica dell'identità la cosa riferita a se stessa che è quello che è e non cambia devo riferirmi ad un oggetto che ha una realtà storica che quindi è simile a me realtà storica significa una realtà riflessiva e quindi attribuisco l'altro la stessa problematica riflessiva che vivo concretamente me stesso e questo chi me lo suggerisce è un arbitrio è un presupposto senza il quale io non posso conoscere l'altro quindi devo necessariamente servirmi del principio dialettico per poter arrivare alla conoscenza dell'altro dell'altro che sono io perché dal momento stesso che attribuisco all'altro questa forma di riflessività lo rendo simile a me è un mio simile è l'altro che sono io è l'altro che è necessario perché io posso sviluppare questa problematica della riflessività che comporta necessariamente l'alterità quindi tutta questa problematica dell'autenticità della spontaneità della personalità della storicità della persona umana e trova la sua comprensione e la sua chiarificazione quando noi la trattiamo secondo la logica che le è pertinente che è una logica dialettica che se io mi trovo in questa situazione mi trovo per fare un progetto mi trovo di fronte all'altro questo essere di fronte che mi limita e mi impedisce di sviluppare me stesso viene superato nel momento stesso in cui attribuisco all'altro la mia stessa interiorità riflessiva e questo è il superamento di dialogo il dialogo il rapporto dialogico attraverso il quale io spiego all'altro me stesso e trovo nell'altro la spiegazione della comprensione dell'altro quindi attendo che dall'altro la liberazione di se stesso ma tutto ciò non è possibile se io mi fermo alla logica dell'identità nella logica dell'identità non è che mettendo vicino due sedie queste sedie comunicano non è che posso pensare che una sedia con la sua riflessività possa promuovere la riflessività dell'altra sedia e che ci possa essere un progresso nella formazione della personalità della sedia la sedia è quello che è ciò che è fisico e vuole a se stesso eternamente per leggi che sono fisse e inutabili e sono state stabilite per l'eternità e quindi occorre per poter capire la specifica problematica della personalità andare oltre tutte queste posizioni che vengono presentate in maniera inautentica perché presentare delle problematiche della personalità specifiche della personalità secondo i termini della logica dell'identità è una traccontazione inautentica in questo caso è inautentico il concettualizzare in termini di identità delle problematiche che sono pertinenti al rapporto io-altro che è un rapporto di alterità è un rapporto di differenziazione e di identità ci sono l'una cosa e l'altra e questo non è semplice da tradursi in termini positivistici perché dal punto di vista naturalistico tutto è positivo sappiamo che è positivo anche il nulla anche lo zero lo zero è un numero e ha la sua funzione nel sistema dei numeri e il nulla è qualche cosa che viene definito con questo termine nulla che ha la sua collocazione in un discorso ed ha la sua funzione e ha il suo significato quindi dal punto di vista della logica dell'identità il nulla non esiste l'essere è e non essere non è tutto ciò che viene formulato dal punto di vista della logica naturalistica è sempre positivo ha sempre una sua positività anche se viene definito nulla e il nulla è il nulla che o è qualcosa che è scritto o non è scritto o pronunciato ma comunque ha un significato nel contesto di un discorso quindi fa parte del logos della logica alla quale noi ci affidiamo per creare una immagine del nostro pensiero e per creare una definizione del mondo in cui viviamo quindi il nulla è esso stesso un fatto positivo ma ben diversa la posizione del sentimento la posizione del sentimento vive nulla come un goscia è il sentimento che si rebella al proprio annullamento e che quindi provoca una protesta per questo destino che lo spinge verso il nulla al quale egli si rifiuta di aderire che teniamo presente che appunto in questa concezione dell'angoscia che viene presentata da quest'autore l'angoscia non è semplicemente uno stato di sofferenza è uno stato di protesta di reazione è uno stato di aggressività perché chi trova l'angoscia non ammette la necessità di questo sentimento questo sentimento lo rifiuta non l'accetta quindi è un rifiuto di un limite che per il soggetto è inaccettabile perché il soggetto non pronuncia mai anche nell'estrema miseria del proprio essere nella riduzione estrema della propria esistenza non pronuncia mai è il proprio ideale di onipotenza il soggetto se è io è vero io è sempre un dio sarà un dio decaduto dalle stelle caduto da una stella caduto dal firmamento nel quale si provava è caduto nel fango ma si sente sempre dio finché l'uomo respira e respira dall'aria della divinità quindi questa non è una cosa che si possa trascurare non è cosa da niente se noi cerchiamo di dosare di quantificare sentimenti fondamentali come la angoccia come la disperazione come la inquietudine la cura cadiamo nell'illusione naturalistica che immagina delle entità presenti nell'esteriorità che si insinuano nell'animo umano la cura per esempio viene immaginata come una determinazione della trascendenza che viene a trasferirsi nell'animo umano e da questo punto di vista sfomiglia molto alla grazia della filosofia tradizionale perché chi ha cura dell'altro vuol dire un uomo di fede è un uomo che considera la possibilità dell'identità del proprio essere con l'altro essere in funzione di un mediatore che è l'essere assoluto perché se si muove verso l'altro se sente un trasporto verso l'altro se sente l'interesse a occuparsi di occuparsi dell'altro e si occupa dell'altro questo uscire fuori di sé è propiziato è promosso da qualcuno che è molto al di là della propria limitatezza perché l'uomo in ogni caso è finito in questa prospettiva della trascendenza e chi decide tutto la trascendenza allora in questo caso però dobbiamo rinunciare ad una vera teoria della personalità perché non si tratta più di una personalità ma di uno strumento della grazia divina è la grazia divina che ha fatto sì che a quell'uomo sia stato fatto questo dono di cui lui non ha nessun merito e l'unico merito è sempre da tribù di essere alla divinità e quindi vediamo che cambiando la terminologia si ripropone la problematica che abbiamo già visto trattando gli autori che si sono occupati di questi problemi perché il problema della personalità della responsabilità della spontaneità dell'originalità della personalità dell'io non è un tema al quale la filosofia sia antica che moderna si può dire che sia rimasta estranea nella età moderna è venuta in luce più esplicitamente tutta questa serie di tematiche che però vediamo sono già presenti nella dottrina della grazia della filosofia tradizionale scolastica e nella stessa filosofia antica perché la concezione platonico-adistotelica non è molto diversa da per quanto riguarda la teoria della trascendenza è diro è trascendente è diro è l'unica essere che abbia una sua personalità perché personalità cosa significa? è un essere che cerca qualcun altro cerca qualcos'altro che ha bisogno di qualcos'altro ma cercare qualcos'altro significa una limitazione della propria personalità e quindi nel caso della divinità come viene immaginato questo un'incompressibilità che non ha bisogno di niente quindi o si considera la personalità come personalità già conseguita ma questo non è possibile perché è una personalità che si è già tutta realizzata è l'essere quanto essere e quindi giustamente Spinosa sostiene la tesi di una divinità che non ha personalità perché la personalità aspira a qualcosa ha un'intenzionalità ha un fine da raggiungere ha un obiettivo da conseguire ha un sogno da realizzare un progetto ha una progettualità ma Dio non ha una progettualità è un progetto già realizzato non è pensiero in atto pensiero che lavora per costruire qualcosa è pensiero già costituito è il pensiero pensato secondo quella che è la concezione Gentiliana che fa differenza tra il pensiero pensante che il pensiero della personalità reale alla quale manca sempre qualcosa e quindi si problematizza e si chiede che cosa gli manca e perché gli manca e a chi si deve rivolgere perché non gli possa soddisfare questo bisogno questa aspirazione questa sua possa placare questa sua mancanza sentimento di mancanza e sentimento della mancanza che cos'è il sentimento della mancanza è sempre un dolore un angoscia una defettività un uomo per essere perfetto deve essere l'essere qual è essere? deve essere lì sopra di ogni necessità e di ogni bisogno e di ogni condizione di mancanza deve essere perfetto deve avere tutto ciò che compete all'essere perfetto alla perfezione assoluta e quindi il problema della personalità va inserito in questo contesto di ordine dialettico in cui il senso il problema della defettività è un problema che inerisce non all'essere in fronte totale è il problema della defettività che inerisce a me che sono io sono l'unico il quale possa dire perché lo sperimenta direttamente che cos'è questo senso di mancanza questo senso di defettività che qualora compaglia non è accettato da Dio è sempre rifiutato perché Dio aspira sempre alla totalità assoluta completa onnicompressiva e questo è il sentimento fondamentale che spinge sempre l'Io anche nelle situazioni più misere della sua esistenza ad andare avanti alla necessità è l'Io stesso che si spegne quando non si può più parlare di Dio se si parla Dio si intende sempre la necessità di spingersi avanti di superare i limiti di andare al di là del limite di andare verso una trascendenza si dice ma che cosa è la trascendenza non possiamo sapere che cosa sia non sappiamo niente della trascendenza non c'è la trascendenza è un'esigenza che nasce dal sentimento dell'Io basta che Dio si ripiega su se stesso che rifletta la riflessione e questo rapporto di soggetto e di oggetto dove l'oggetto è il limite e il termine di integrazione del soggetto in qualsiasi circostanza non si sbaglia mai qualvolta c'è un'esigenza c'è un sentimento di mancanza e c'è un rifiuto di questa negatività perché Dio vuole essere sempre positivo non solo positivo ma onnipositivo vuole essere onnicomprensivo vuole essere la totalità assoluta vuole essere l'assoluta onnipotenza e questa è una spinta che non è determinabile positivamente nell'esteriorità perché viene dall'interno quindi questa trattazione di questi sentimenti che sono sentimenti fondamentali del soggetto della personalità che sono la realtà del soggetto questi sentimenti vanno inquadrati nella formula logica che gli è pertinente perché se questi sentimenti noi li poniamo nella trascendenza e immaginiamo che al soggetto arrivino dalla trascendenza creiamo una concezione naturalistica mitologica cioè rientriamo nella mitologia teologica dove esistono degli dei buoni degli dei cattivi degli dei buoni che influenzano l'uomo verso sentimenti positivi e i dei cattivi che invece insinuano sentimenti perversi o defettivi o decettivi o cioè ci sono divinità che rappresentano il bene e divinità che rappresentano il male e che esercitano un influsso nell'anima umana per cui l'anima umana è sempre spaccato diviso da un conflitto tra il bene e il male e ognuno poi ha le sue idee sul bene e sul male perché quello che è bene per uno magari è male per l'altro e quindi si crea una situazione di confusione dalla quale è difficile distruccarsi ma in realtà c'è un criterio fondamentale per me per il mio io il principio della realtà è che io sono presente nell'esteriorità sono in rapporto con l'esteriorità ma nello stesso tempo pretendo che questa esteriorità si conformi alla mia intenzionalità questo conflitto si può risolvere si può risolvere sviluppando la dialettica di questi termini contraposti e allora entriamo nella dimensione storica che è la mia storia è la storia dei miei conflitti della della mia lotta per la vita il mio rapporto con l'altro che sarà un rapporto di amicizia di amore o di odio o di combattimento di lotta di solidarietà di collaborazione con tutti i sentimenti che nascono da questa condizione di origine ma non sono sentimenti che appartengono ad un'altra dimensione appartengono al mio io di domenica di domenica di domenica di domenica